Ciao, noi siamo lo Stato Sociale. Sabato 25 febbraio, verremo a suonare a... Toil, Mac, party! Tour 2012, Spazio Concept, Milano, l'indirizzo? Non lo so. Via Forcella. Numero? 7. L'hai detto a caso? No, è vero. Ci vediamo sabato, a Milano, Spazio Concept, c'è disagio Tour, lo Stato Sociale, 2012. Grazie.